Bene carissimi amici siamo ancora qui insieme sul mio canale youtube perché parliamo del favoloso metodo Venezia da sbanco che è qualcosa di fenomenale e batto su questo metodo perché sta producendo ancora dei risultati veramente impressionanti. Quindi vi ricordo che questo metodo in questo 2023 sta facendo fuoco e fiamme gennaio addirittura diede il terno a tre numeri questo metodo se eseguito con costanza ogni mese vi porterà a stravincere. Ok e vi ho presentato anche la collezione degli altri quattro metodi maggio cosa avevamo avevamo il 4 perché voi dovete prendere semplicemente i terzi estratti di Torino Venezia e sommare le unità le unità sono in questo caso 42 82 Torino Venezia abbiamo 2 e 2 quindi 4. Andava giocato il 4 sulle ruote di Torino e Venezia nel mese di maggio e il 4 sorti a Torino il 30 maggio. L'ultimo colpo è sempre la prima estrazione del mese successivo infatti andò il 4 anche a Venezia. Giugno cosa vi ho fatto vedere che oltre al metodo classico quello dei terzi estratti che portava il 6 avevamo le altre 4 ambate la collezione porta anche i due ambi secchi ogni metodo porta due ambi o potete giocare l'unica terzina con tutti e cinque metodi in mano combinate il finimondo. Allora avevamo il metodo prima posizione c'era il quadro abbiamo l'ultimo colpo sabato quindi tutto ancora può accadere avevamo il 4 il 4 si presenta a Venezia il 3 giugno il 4 si presenta a Torino il 6 giugno. Vediamo ancora se c'è qualcosa quindi il metodo prima posizione a 22 volte il metodo seconda posizione sommiamo le unità abbiamo 63 3 più 0 fa 3 vediamo il 3 cosa ha combinato sulle ruote di Torino e Venezia. Vediamo un po' se è successo qualcosa direi di no vedremo l'ultimo colpo sabato cosa succederà terza posizione il metodo che ormai conosciamo quello che il classico che ho presentato il sera abbiamo stravinto e stravinto ve lo faccio rivedere. Gli ambi secchi erano 6 53 6 73 e la terzina amboterno 6 53 73. L'8 giugno esce l'ambo in terzina 53 73 il 10 giugno esce il 6 a Venezia poi abbiamo il 17 giugno 6 a Torino in quinta posizione perché le posizioni sono sempre prima e quinta. E poi nell'estrazione di questa sera il 29 di giugno 6 prima posizione a Venezia ambos ecco 6 53 quindi più di questo cari amici è un metodo che non si può non prendere. Questo è un metodo per la vita questo non è questi non sono i metodini che trovate in giro dagli altri e questo è un metodo che ho presentato da anni. Questo è un metodo che ha più di 10 anni sulle spalle questo è un metodo che ha pagato negli anni passati paga e pagherà perché un metodo che con soli due abbinamenti riesce a beccare tutte queste vincite. E non l'ho presentato certamente il mese scorso vuol dire che un metodo di grandissimo valore che va preso bendati vi dovete bendare gli occhi e prendere questo metodo perché è una follia non averlo. Chi non ha preso il metodo questo mese si è bruciato due ambi un ambo in terzina e un ambo a ruota chi non ha preso il metodo questo mese in tasca non ha più di 300 euro buttati regalati dall'automatica chi è il metodo se li è portati a casa. Giocando il metodo correttamente questo metodo vi porta in cassa in una maniera impressionante. Il metodo quarta posizione giocava il 9 78 21 sono i quarti estratti sommate le unità 8 e 1 e avete il 9 prima e quinta posizione. Vediamo il 9 cosa ha combinato cosa per farvi capire chi ha la possibilità di giocare tutti e 5 i metodi alla fine sono metodi ristretti cosa si può andare a combinare. Il 9 esce a Venezia il 24 giugno e si presenta questa sera sulla ruota di Torino in posizione quindi alla grande. L'ultimo metodo questo della quinta posizione 39 11 quindi estratti sommiamo unità 9 più 1 fa 10 e noteremo che anche questo 10 è andato a pagare sulla ruota di Venezia il 6 di giugno. Poi ha pagato a Torino l'8 di giugno quindi due vincite e ha pagato il 10 a Torino in prima posizione il 20 di giugno ok? Quindi veramente alla grande io vi invito caldamente a prendere Venezia da sbanco perché è un metodo da prendere poi chi vuole prendere tutta la collezione avrà tutta la collezione dei 5 metodi perché poi cosa succede? che se tra i 5 estratti c'è convergenza cosa vuol dire che per esempio questo mese non c'era ma se andiamo al mese di maggio per esempio avevamo in convergenza il 14 perché il primo estratto 9 più 5 portava il 14 secondi estratti 15 e 49 sommando unità portava 14 vuol dire che questo 14 era forte e doveva pagare perché era in grande convergenza perché due metodi lo portavano e infatti questo 14 va a sortire sulla ruota di Torino ok? quindi cari amici un metodo da prendere un metodo da prendere ma potete andare dove volete potete andare al mese di novembre ma ci sono già diversi video su Venezia da sbanco sul mio canale quindi un metodo che questa sera ha di nuovo strapagato 29 di giugno ambo secchissimo sulla ruota di Venezia 6.53 non so se mi arriverà qualche cedolino perché forse molti che hanno vinto l'ambo in terzina non hanno più giocato ma Venezia da sbanco va giocato fino all'ultimissimo colpo che sarà sabato rimo luglio perché è molto spesso da vincere multiple e questo è un ambo secco che purtroppo credo che molti lo abbiano perso o chi non ha ancora preso il metodo perché molti mi hanno chiesto di venersi da sbanco ma alcuni dicono ci penso aspetto e così ecco là però nell'otto bisogna essere tempestivi perché poi la vincita con questi metodi è dietro l'angolo il metodo incrocio vincente è stato un altro metodo bomba l'ultimo che ho presentato ha pagato sulla ruota di Roma nell'estrazione di giovedì 22 l'ambo secco 74-39 quindi capite bene che i miei lavorati vanno presi assolutamente faccio anche un bel pacchetto promozionale per chi vuole più metodi quindi mi raccomando a Venezia da sbanco perché nel mese di luglio potrebbe arrivare ancora un altro grande botto ed è un metodo che ha dato anche i terni a gennaio chi ha il metodo in mano può valutare toccare con mano che con tre numeri si è fatto il terno a ruota non con dieci terzine con una sola terzina perché abbiamo il capoggioco e i due abbinamenti si è realizzato il terno a ruota il terno a ruota il capoggioco di gennaio se lo andiamo a vedere alla prima mensile terzi estratti Torino-Venezia 64, 67 4 più 7 le unità è 11 vediamo l'11 quando uscì sulle ruote di Torino o Venezia il 24 di gennaio in quinta posizione qui è caduto il terno chi ha il metodo in mano vado a vedere vado a fare i calcoli è caduto il terno uno dietro l'altro è caduto il terno nel mese di gennaio quindi cari amici un metodo che non so più cosa dire guardate l'ultimo colpo quando dico che è un metodo che va giocato fino all'ultimissimo colpo utile che è sempre la rinestrazione del mese successivo quando andiamo a calcolare il prossimo pronostico 11 a Torino in prima quindi è un metodo che da vincite multiple è un metodo che va giocato fino all'ultimissimo colpo perché molto spesso è un metodo che non vi dà solo una vincita vi dà più di una che può essere un doppio estratto determinato può essere un doppio amo un doppio amo in terzina i due ambi li potete giocare anche a tutte le ruote volendo investire e caricarli bene a tutte perché a giugno hanno pagato ha pagato due volte nel mese di giugno adesso non ricordo bene quando guardate 3 giugno 6.53 a Genova e poi mi sa che ha pagato di nuovo mi sa che ha pagato l'altro Ambo con il 6 se non ricordo male vediamo ci dovrebbe essere l'altro vediamo un po' non ricordo bene perché il 6.53 me lo ricordo qui il 3 giugno adesso magari mi sicuramente mi sfugge quindi a parte uscito a Venezia questa sera il 29 di giugno eccolo qui 6.73 Palermo il 15 giugno quindi parliamo di praticamente tre ambi vinti a tutte con su di due ambi in gioco di cui il terzo Ambo vinto a ruota a Venezia quindi cari amici un metodo che c'è bisogno a prenderlo non è un metodo è un metodo che vi darà tante soddisfazioni Venezia da sbanc guardatevi via Whatsapp 34875 47715 per avere questo fantastico metodo un metodo che sono più di 10 anni che paga ma quando l'ho presentato prima negli anni precedenti già pagava quindi è un metodo che paga da 20-30 anni almeno è un metodo che paga da sempre quindi immaginate che gioiello potete avere tra le mani questo è un metodo di da prendere da giocare è un metodo ristrettissimo questo metodo quando l'ho elaborato non per bantarmi ma è stato un colpo di genio perché chi ha visto l'elaborato si è messo le mani nei capelli questa è stata un'intuizione che ho avuto su questo metodo per quanto riguarda gli abbinamenti veramente incredibile è stato uno dei miei migliori lavori che ho prodotto negli anni ne sono molto soddisfatto ne sono molto contento perché è una mia creatura elaborata con carta e penna che mi ha portato e mi porta ancora oggi a distanza di anni tante soddisfazioni e sta facendo vincere tanti di voi quindi mi raccomando a non perdere il metodo compito trovate il numero whatsapp in descrizione per chiedermi informazioni per adesso saluto a tutti i Mister Sbancolotto grazie a tutti